persone che più o meno hanno la stessa voglia, la stessa idea di quello che può essere il piacere andare in barca dove la parte agonistica è sì una cosa importante ma non è soltanto quella è come se tu ci metti il sale su una cosa, se tu ci metti troppo sale diventa una merda quindi se sei un favore di istituto Sergio, Sergio, unipi per il Sergio e con l'azzurro 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 questo è un gruppo di persone che più o meno ha piacere e mi piace fare i ragazzi sono amministi però sono persone magiche questo è una bella riuscita di un gruppo poi crediamo che qualcuno c'è il gioco devo tagliare a mettere anche il beat basta così bravo bravo bravo